Bene, è che lui da quando siamo diventati amici, proprio amici, proprio interi che chattiamo tutto il giorno, che ce ne diciamo di cotta e di crude, lui mi dice ma perché non mi fai suonare una cosa sul palco tuo che suonano tutti, mi dice sempre, vedo tutti, addirittura a me morimigi, a me niente, no? Ecco, e ha detto vabbè allora porta che c'è una chitarra, un mandolino, dice no io ho il pianoforte e ha detto vabbè e che noi ci facciamo parlare dietro? S'avanti il pianoforte, prego, eccolo qua, il pianoforte per il professor Gustavo Zagrebensky Guarda va, Pizze Garraldo proprio, ecco qua, ecco qua, un'operazione complessa Ecco qua, ok, ce la stiamo facendo, un applauso! A quest'operazione, in corso, in diretta, ecco qua, ma cos'è i pezzi al di Sanremo? Eh? Queste cose tutte in diretta, solo a Propaganda Live, prego! Guarda, guarda professore, guarda che hai fatto! Guarda che tutti al lavoro per questa performance! Scusami! Sì, sì, è tardi? Andrà via? No, che è, sei stancato, sei stufato, adesso c'è tutta la puntata con questo qua? Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie! Mi lasci dire due parole di presentazione? Ma ce ne mancherebbe! Questo è un brevissimo pezzo di un autore contemporaneo argentino che si chiama, come si chiama? Mario Kempes? No, Ghinastere, intitolato La danza della Mosa Donosa Chi non conosce la danza della Mosa Donosa? Dunque, è la danza della fanciulla, la Mosa Donosa, vuol dire carica di doni Ed è un pezzo, secondo me, che si presta a una interpretazione Ognuno, naturalmente, nella musica può leggere quello che vuole Perché questo è il vantaggio Io sono rimasto a danza A danza della? Della mimosa De la De la De la E dai, argentino Ci avevo fatto la prima cazzata, tu guarda Dai De la De la Moza Con la z Ma italiano? E spagnolo De la Moza Qua ci vuole la tagliare Adesso, non bisogna nulla per scontato qua Allora, de la Moza La Moza La Moza Donosa Donosa La Moza lo so, lo so La Moza Voi avete razione L'esplicazione richiede tempo E con reggio ortografia Una possibile interpretazione Adesso siamo seri Ecco Cercando di facilitare Tutto Comincia con un ritmo Si può immaginare questa bella fanciulla Che balla leggermente E che offre cantando i suoi doni Per l'appunto Poi siccome gli ascoltatori che siamo noi Non accogliamo le sue proposte Questa si arrabbia La parte centrale è un'arrabbiatura Non è incazzosa Esatto Aveva appena finito i diseri E poi E poi E poi Prende atto della situazione E piano piano si allontana Facendo alla fine Tutti noi Uno sberleffo Il che ci fa pensare A quante cose nella nostra giovinezza Abbiamo rinunciato Forse non avremmo dovuto farlo E comunque il tempo è passato Abbiamo perso la nostra occasione E' andato bene Doveva suonare Purtroppo Non è stato un gradissimo No prego 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 Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Mi sembrava una conclusione perfetta Professore Gustavo Zagrebelsky Al pianoforte E la danza della mostra donosa Un momento di cultura Non ve lo sapete Veramente Solo a Propaganda Live Che cosa Memo Più basso E' troppo basso lo sgabello E' troppo basso lo sgabello No no Memo Fate le sca Che già la situazione è scomplicata E' invidia E' invidia E' invidia Che è il piano partevarese Concentrazione Stiamo a parlare Di Zagrebelsky E' a questo ritmo Che all'inizio sembra Sì ma basta Spiegarla la musica Bisogna suonare Zagrebelsky Come si chiama Alberto Zagrebelsky 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 E' il maestro Angelini Suonare Naturalmente M'intimorite ma Chi? Angelini? Sì esatto E' il gato loco E' il gato loco Non ha mai intimorito Nadie Dico Prego Zagrebelsky 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 Zagrebelsky